Paura in Abruzzo dove questa mattina è crollato il ponte Guastacconcio a Paglieta. Il ponte sito sul fiume Sangro era già stato chiuso fortunatamente al traffico lo scorso 14 dicembre a causa delle criticità riscontrate che poi hanno portato al crollo di oggi. Siamo vicini alla comunità di Paglieta e al sindaco Graziani, scrive il presidente Francesco Menna, a nome dell'amministrazione provinciale. Grazie a tutti.